Importanti novità sono in vista per il miglioramento della viabilità pescara. Grazie ad un investimento di 18 milioni di euro saranno realizzati i lavori per l'allungamento dell'asse attrezzato fino al porto e per l'abbattimento dello svincolo, cosiddetto a trombetta, della circonvallazione all'altezza della pineta. Stiamo parlando di 18 milioni di euro che grazie alla Regione Abruzzo, e devo ringraziare anche il Presidente del Consiglioso Spiri, a nome dell'amministrazione, sicuramente l'avrà fatto anche il Sindaco quando ha sottolineato l'importanza di quest'opera. Quest'opera strategica comporta un intervento per il prolungamento della rampa dell'asse attrezzato all'interno della zona portuale con la rivisitazione della viabilità circostante e dall'altra parte un altro intervento non meno importante che è quello della sistemazione della porta di Pescara, della porta sud, e quindi con l'abbattimento del cosiddetto svincolo a trombetta, che ormai è del tutto inutile nella zona della Nazionale Adriatica Sud. Però siamo ancora in fase di progettazione, due progetti definitivi, certamente i tempi devono essere accelerati, per cui la speranza è più che una speranza, è un'aspettativa, e che entro il 2021 almeno una delle due opere possa andare in appalto e quindi possa iniziare la realizzazione. Viabilità che consentirà alla città degli enormi benefici. Sì, l'idea è quella che quando queste opere saranno realizzate si possa fluidificare ulteriormente il traffico con il progetto importante di Via Marconi, su cui è bene fare chiarezza, soprattutto per qualcuno che eccepisce oggi la realizzazione di isole salvagenti o di restringimenti. Su Via Marconi c'è un progetto importante di oltre un milione di euro, che non è un intervento spot, ma è un intervento finalizzato soprattutto a creare una corsia in sede riservata e protetta per il mezzo che sposterà, noi ci auguriamo, migliaia e migliaia di pescaresi e non solo, ogni giorno e che quindi andrà anche ad agevolare il traffico cittadino. Via Marconi verrà percorsa dal BRT, questa filovia a impatto ecologico zero e dall'altra parte vedrà comunque le due corsie di marcia verso nord e verso sud che rimarranno inalterate. Ma questo progetto dell'asse attrezzato consentirà anche di rimmaginare la vocazione di Via Benetto Croce, oggi anch'essa oggetto di riqualificazione, ma ad oggi in qualche modo un po' strozzata dalla mancata confluenza con Via Vespucci. Invece nell'ambito di questa sistemazione partono poi una serie di dinamiche che potrebbero domani rendere Via Benetto Croce un po' l'arteria di un tempo, molto importante anche dal punto di vista commerciale, con una bella portata anche di sviluppo e di frequentazione. Grazie.